salve buonasera a tutti allora l'associazione era stata chiamata per una segnalazione di abbandono di rifiuti quindi siamo venuti qua per fare la segnalazione sull'abbandono di questi rifiuti una cosa che mi ha colpito molto purtroppo non sono neanche i rifiuti quello che mi ha colpito molto è quello che abbiamo trovato oltre rifiuti in un periodo molto molto preoccupante della nostra nella nostra vita quello che abbiamo trovato è veramente da vomito cioè durante la pandemia molta gente che ha bisogno e questo viene buttato in mezzo alla strada adesso io vi faccio vedere questa è tutta pasta unione europea aiuto c'è con scadenza 2021 cioè parliamo di un cartone pieno di pasta biscotti che potrebbero sfamare tantissimi bambini è una busta piena di legumi cioè io non rimango non rimango male per l'abbandono di rifiuti che è una cosa gravissima l'abbandono di rifiuti ma rimango ancora più male per per questo abbandono c'è un cartone pieno di pasta con scadenza 2021 la gente sta a muore di fame ragazzi ma di che cosa stiamo parlando la gente sta morendo di fame fanno le raccolte alimentari questi sono i falsi poveri secondo me questi sono i falsi poveri perché tu non vieni a buttare la pasta con scadenza 2021 ma stiamo scherzando questo adesso tutto questo verrà denunciato alle autorità competenti perché una cosa questo è un fatto molto molto gravissimo molto molto gravissimo cioè vi faccio vedere vi faccio vedere questi sono tutti tutti i biscotti tutti i pacchi di biscotti è pieno ragazzi è pieno ragazzi questa è una vergogna vera è pieno questa è veramente una versione legumi c'è legumi legumi buoni siamo arrivati a tutto questo durante una pandemia che la gente non ha da mangiare la roba viene buttata a questo siamo arrivati dall'associazione era ambiente tutto grazie grazie a tutti